Anche quest'anno Unicam ha partecipato con entusiasmo alla trentesima edizione della fiera dell'elettronica che si è tenuta lo scorso fine settimana nel quartiere fieristico di Villa Potenza di Macerata. Oltre ad uno spazio informativo in cui è stato possibile avere notizie sui corsi di laurea di Unicam, in particolare sul corso di laurea in informatica, Unicam ha organizzato il convegno sull'internet delle cose tra etica e diritto in cui i relatori, docenti Unicam, hanno parlato delle potenzialità e delle applicazioni ma anche delle conseguenze di un uso scorretto dell'internet delle cose. Ormai siamo circondati da sensori che possono essere inseriti negli oggetti e che consentono di scambiarsi informazioni attraverso la rete. Nasce dunque la necessità di affiancare al diritto anche regole etiche nell'intento di piegare la tecnologia alle esigenze dell'uomo e non il contrario.